Ben presto avremo delle misure importanti di controllo del territorio che faremo e presenteremo anche alla città. Giro di vite nei giardinetti, annunciarlo ai nostri microfoni il primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco. Il sindaco spiega che la situazione è tenuta sotto stretta osservazione e che gli attuali problemi sono dovuti da anni in cui il tema non ha avuto la giusta attenzione. Ma spiega anche che la giunta ha le idee chiare sul futuro dell'area pur senza entrare nello specifico di quali siano le misure che verranno prese. Lascia comunque intendere che l'obiettivo è quello di restituire le aree verdi della città ai vicentini, togliendole dalla gestione degli spacciatori. È una situazione che Campomarzo si trascina da anni e che va assolutamente attenzionata in maniera più importante rispetto al passato. Stiamo investendo risorse importanti sul controllo del territorio, in particolare Campomarzo e i parchi della città, perché anche altre zone sono luoghi di spaccio, ricordo, non solo Campomarzo. A tenere banco in queste ore è la polemica tutta politica sulla rimozione delle panchine dal parco Fornaci. Il sindaco tira dritto. Si pretende che in soli due mesi la nuova amministrazione dia risposte immediate sulla custodia dei parchi, la cura del verde, l'illuminazione pubblica e la videosorveglianza. Temi per i quali, spiega Rucco, è evidente che servano invece investimenti importanti e progetti dedicati. Se amministrare vuol dire affrontare i problemi, forse i consiglieri di opposizione potranno spiegarci di cosa si sono occupati alcuni di loro. Negli ultimi dieci anni, aggiunge il sindaco, visto che i problemi di degrado e sicurezza di alcuni parchi sono rimasti irrisolti.